Recensisco una distro a caso da DistroWatch e me ne pento, volume 2. Ok, è giunto il momento dell'estrazione, io premerò questo pulsante e non c'è una seconda chance, quindi creiamo un po' di suspense. 5, 4, 3, 2, 1... Eeeh... ma perché c'è Taylor Swift? Ora, questa distro mi ricorda vagamente Anna Montana Linux, che era una distro a tema Anna Montana, quindi non so davvero cosa aspettarmi. Fra l'altro diceva che una volta era una distro con tool di forense, analisi forense, ma attualmente viene semplicemente distribuita come una MX Linux con un wallpaper alternativo. Cioè, non mi dire che avete forcato, avete fatto un'altra derivata soltanto per cambiare lo sfondo, ti giuro, mi incazzo. Andiamo a vedere un attimo l'about. Oh, basata su MX Linux, che a sua volta è basata su Antix, ma questa storia già la sappiamo, che è un branch di Debian Stable. Ah, cosa aggiunge Swift Linux a MX Linux? Questo è quello che mi stavo chiedendo, questo è quello che ci stavamo tutti chiedendo. Updates, KeePassXC, vabbè, ok, è un programma preinstallato, te lo puoi installare in qualsiasi momento. Special themed wallpaper for the login screen and desktop. Ebbene, abbiamo il desktop e la login screen a tema Taylor Swift. Che bello, che bello! Every edition of Swift Linux is a special edition. Oh sì, oh sì. Did you invent Anna Montana? Ecco. No, però lui l'ha ravvivato, sto progetto. Fantastico, fantastico, ok. Secondo distro watch, questa qui è una distro ancora attiva, eh. Twilight Zone Linux, Taylor Swift Linux, Anna Montana Linux, ma che cavolo. 2020 08 21, è anche recentemente aggiornato, cioè tutto sommato. Bene, bene, 2 giga di me... Ora velocizzo il video, così sembra che sia tutto veloce e istantaneo, in realtà non è neanche veloce a scaricare. No, però mi stavo chiedendo, ma che ho fatto di male? Ma perché? Ma tra tutte le distro che ci sono... Sarà un'avventura unica. Visto che sto scaricando, intanto prepariamo la macchina virtuale, nome, cancellami, mi sembra perfettamente adeguato. Dai, 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 che ormai è finito, sono così ansioso di provare. Swift Linux, e vai. E no, beh, 1280 per 1024. 1920 per 1080, non guasterebbe, no? Cos'è? Oh mio Dio, è una delle cose più brutte che abbia mai visto. Uno sfondo... Ma ha cambiato due volte sto sfondo, cioè così... Via, via. Cambia in automatico, oppure sono stato io che ho fatto qualcosa... Ah no, mentre caricava il desktop, giustamente c'era un altro sfondo, giustamente, giustamente. Poi mi devi lasciare... Sì, che è sta roba. Ok, c'è un gestore delle risorse. Vediamo se riesco a mettere una risoluzione decente, oppure come al solito non è possibile. TS, ah... TS per Taylor Swift, ma no! Vabbè, impostazioni... Ah, giusto, settings, display, eccoci qua. Come di consueto, le risoluzioni in 16.9 non esistono su VirtualBox. Io non ho capito perché deve essere così bastardo. Che ci crediate o no, ho provato a mettere la risoluzione 1080p, ma non ne vuole sapere, perché se lo metto a schermo intero diventa tutto nero, quindi al massimo me lo posso usare così. Che insomma, non è esattamente l'esempio di massima godibilità. Comunque c'è veramente poco di godibile, quindi penso che non sarà troppo un problema. Ad esempio, c'è questa cosa che è stata aggiunta, che non mi sembra di averla mai vista in MX Linux attiva di default. Quindi, ok. Non si può neanche spostare, oppure per ignoranza mia non so come si sposta, non lo so. Non si leva dalle palle. Da quando ho cambiato la risoluzione è semplicemente rimasto così. Vediamo che cosa possiamo cambiare. Desktop settings. Ci saranno degli sfondi, immagino... Ah, eccoci, eccoci. Vediamo cosa abbiamo. C'è questo qua. Vabbè, l'abbiamo visto. Welcome to Taylor Swift, Kent Drive 55. Vabbè, ok. Sarebbe bello levare questo coso dai maroni. Aspetta un attimo. Questo cos'è? Conchi? Kill all conchi. Bene. Grazie, rivederci. Vabbè, ma creare una distro per quattro sfondi di merda, veramente. Ecco, questo è Twilight Zone Swift Linux. Ma perché? Ma perché? Non capisco. Ci sono quei quattro sfondi lì un po' così. Wow, che trash. E vabbè, dai, mi piace. Sì, sì. Ah, no, il top. Vabbè, ragazzi. Che cosa devo recensire? Ho già recensito MX Linux. Questo è MX Linux. Con gli sfondi di Taylor Swift. Dai, vabbè, ho capito. Anna Montana pure. E vabbè. Dai, mi sto deprimendo. Basta, basta, basta. C'è poco da dire, ho già detto tutto. Va bene, grazie, rivederci. Guarda che bella fine che facciamo. Virtual box, come promesso. Adesso andiamo qua. Sì, sì, mori malissimo. Cancellami. Aha. Rimuovi. No, 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 tutti i file. Va bene, ragazzi. La distro era quella che era. Non c'era molto da dire. Spero di avervi almeno strappato un sorriso. E per la prossima volta speriamo di beccare qualcosa di più sensato. Ma soprattutto di non beccare l'ennesima distro in cui è cambiato il tema e lo sfondo. E questo la rende una distro? Non credo che funzioni così. Anche se effettivamente gran parte delle distro si basano su quello. Allora, sono buono anch'io. Mi faccio la mia distro. Morro Linux. Proprio già così. Nome della distro Morro Linux. Oppure Morro Linux. Staccato. Quella diventa la distro. Ci metto, non so, la mia faccia come sfondo. Vabbè che bello. Progetto community, anzi la volete fare voi. Tanto guarda, prendi un fork di MX Linux, di Mint, quello che vuoi. Poi dove fai? Ci metti la mia faccia sotto. Ci fai un tema un po' a cazzo di cane con i colori che come ti vengono. E questa è la distro. Certo che però non sarebbe male.